Ehi la gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Brawl Stars e siamo tornati con un video dedicato alle news, anche oggi ho scovato un po' di robette per voi, ve le racconto nel video di oggi, come sempre io quello che vi chiedo, semplice e veloce da parte vostra e un po' di supporto per cominciare, quindi il like, puntiamo ai 3k per questo video che è tanta roba, c'è una notizia molto su cosa come vedete al titolo, l'iscrizione al canale con campanellina così rimanete sempre aggiornati sul mondo di Brawl e il codice ferre in fondo allo shop che non ci sta mai male, un bel codice ferre. Detto ciò, starete vedendo sottofondo un po' di gameplay con Doug, è uscito un nuovo brawler, lo sto giocando, vi sta piacendo, fatemi sapere un po' cosa ne pensate, molti dicono che è un po' scarsino e che va baffato, sono d'accordo, ma attenzione perché è uno di quei brawler che secondo me per poco che viene baffato, essendo anche un healer, diventa fortissimo, pensate a Pocho, per poco che lo baffano, entra subito in meta, già lo è così, però lo entra ancora di più. Bene, visto che parliamo di Doug, da lì cominciamo con la prima notizia di oggi, ci spostiamo infatti su Twitter, sulla pagina di Brawl Stars dove è uscito proprio questo tweet per annunciare l'arrivo di questo nuovo brawler e guardate un pochettino cosa c'è in questa immagine, oltre a Doug finalmente nelle veloci rapide con il buon Buzz, abbiamo una serie di skin, perché qua dietro abbiamo la Jessie Aquatica e la Nita del Supercell Make ragazzi, e poi abbiamo una Bonnie con i braccioli e un Gaz col costume e il palloncino che ha gli occhiali da sole, che siano due skin, magari anche dei semplici cambi cromatici a cui Brawl sta lavorando, intanto ce li fanno vedere così, quindi mezzo spoilerino di due possibili skin, quello qua dietro è la skin di Doug che già c'è, e qua c'è una scritta che dice massima capacità a quattro persone, ma non c'è niente di che, però molto interessanti queste due skin ragazzi. Bene, detto ciò ci spostiamo su un'altra notizia che riguarda di nuovo la parte cinese ragazzi di Brawl Stars, ebbene sì, abbiamo menzionato la parte cinese in un video recente, ovvero questo qua, che è un video molto interessante, perché è il video del rework di Edgar, del perché andrebbe reworkato e del come potrebbe essere reworkato, quindi se vi interessa andatelo a recuperare, intanto in quel video ho parlato anche di altre cose, tra cui appunto il mondiale in Cina che si è svolto appunto in questo periodo, e non ho precisato in quel video che il team vincitore è stato il team TOC ragazzi, che è questo qua, faccio giusto aprire il logo, quindi potremo vederlo, anzi lo vedremo, al mondiale di quest'anno, quindi abbiamo il primo team spoilerato del mondiale 2023, hype che si, che comincia a salire ragazzi, e soprattutto, restando sulla parte cinese, volevo giusto fare questo collegamento, c'è stato nello shop di Brawl Stars Cina l'ennesima particolarità, non ci ho ancora fatto un video, se vi interessa fatemelo sapere, ma lo shop cinese di Brawl Stars è molto particolare, perché ha un sacco di robe che qua in Europa non si sono praticamente mai viste, una è questa ragazzi, ed è la skin di Bull Rebarbaro, skin esclusiva del 2022 di Clash of Clans e dei suoi 10 anni, Allora no, mi correggo subito, Bull Rebarbaro è uscito 3 anni fa ragazzi, nel 2020, quindi questa skin dopo tutto sto tempo ha avuto effettivamente una seconda chance di uscita, e io dico, dopo tutto sto tempo hanno fatto perdere di esclusività questa skin, io mi domando perché solo in Cina questa cosa io mi aspetto che presto o tardi arrivi anche in Europa, ovviamente vi tengo aggiornati, seguitemi sui social più rapidi come Instagram, perché vi faccio una story se scopro qualcosa, magari vi faccio un video sullo shop cinese, se vi interessa fatemelo sapere anche quello con un commento, però di base ragazzi, dopo 3 anni, una skin che doveva essere esclusiva e che non doveva più uscire, invece l'hanno fatta uscire, Bull Rebarbaro in Cina è molto più comune adesso, e non lo so, a me sembra un po' un'ingiustizia se non lo fanno uscire in Europa, quindi confido che questa cosa non rimanga esclusiva solo per il mercato cinese, oltretutto gratuitamente, penso che a tanta gente farebbe davvero piacere questa skin, giustamente chi ce l'ha già dice io spero di no perché così non perde il valore, sì però ragazzi per una questione di giustizia in realtà sarebbe più corretto così. Detto ciò ragazzi, arriviamo al succo di questo video, come avrete sicuramente visto, finalmente un player ce l'ha fatta, finalmente un player è riuscito a completare la fama, in maniera lecit perché c'è da dire ragazzi che alcuni giocatori, anzi un giocatore se non sbaglio, era già riuscito, no alcuni, alcuni era un bug, erano già riusciti a raggiungere il massimo della fama, ma era un bug di cui credo di non aver neanche parlato perché ragazzi era un bug a rischio ban, non so come funzionasse di preciso, non voglio neanche saperlo, so che gente in passato, poco dopo l'uscita della fama, era riuscita a masterare fino alla fama del sole, ragazzi non fatelo a casa perché vi bannano qualsiasi cosa esista sulla faccia della terra, non so ripeto neanche come avessero fatto. Adesso una persona ci è riuscita in maniera legittima e anche qua vi lascio questa screen, giusto per darvi un contesto, ringrazio anche per questa skin come per tutte le notizie di oggi il buon Joker, che tra l'altro è sempre qua con noi, un salutone Joker. Ciao follettini e follettine. Joker mi dicevi che per raggiungere la fama sole, ammesso che uno sia già a Saturno, quindi da Saturno a Sole, cioè ragazzi io sto a Luna 2 e per carità salgo piano, ma per arrivare alla Marte ci vogliono quasi 10.000 punti totali, beh dopo la Marte c'è tutti i tre livelli di Marte, c'è Saturno, una volta raggiunto Saturno per arrivare sul Sole ci sono 24.000, sono più del doppio ragazzi di quelli che devo fare io, crediti, cioè ragazzi 24.000 crediti, io vi ricordo che è il pass, da delle botte a 45, 70, 45 e così, e prima era 95, adesso sono addirittura ridotte, poi ci sono per carità le soglie extra che sono 5, però capite che, insomma, vuol dire veramente, veramente tantissimi crediti ragazzi, mamma mia, complimenti a questo, a questo player, e lo andiamo a vedere, lo proviamo a cercare più che altro, dov'è che lo posso cercare? ok quindi andiamo su club, cioè su brawler scusatemi, tag, e il numero 5, no il numero 4 tra l'altro, è Sans del team stamina, è ovviamente un tifoso del noto team nordamericano ragazzi, è un giocatore che avevano comprato qualche mese fa, è proprio un giocatore, ok allora chiedo scusa per l'ignoranza, in effetti ora noto che c'ha 86.000 Win 3v3 ragazzi, scusate, beh ragazzi che dire, tutto stamina, avatar emoji, qualunque cosa, il club e quant'altro, master in squadra, master in solo, 80k di record, è un playerone questo, ha il sole, livello 1, e la domanda è, il sole ha 3 livelli anch'esso? non credo, in teoria, o va masterato anche il sole? vabbè, lo teniamo d'occhio ragazzi, se per caso il sole ha più livelli, lo scopriremo, allora da la chat mi dicono di sì, allora quindi in teoria, questo player non è che non ha, non ha ancora masterato completamente le maestre, le fame, ha raggiunto la fame di livello massimo, cioè di, di tipologia massima, ma non di livello massimo, allora un gran peccato in conclusione, che non si possano premere le iconcine del sole, lo sto facendo ragazzi, ma non me lo lascia fare, provo a entrare al volo nel suo club, no ma anche da qua non mi lascia fare nulla, ad ogni modo tanta roba, GG a questo player, che sicuramente al di là, deve essere un giocatore professionista, è un giocatore vero e proprio, un po' come il nostro Mauri, che lui è famoso per essere anche, un giocatore di lunghissima data, ragazzi, che dire, la fama del sole, è veramente un gran flex, per i propri account, complimenti a Sans, che in effetti ora che me l'hai fatto notare, l'ho già sentito, però è facile parlare, quando si è già fatto gol, no, come si dice, e quando la partita è finita, scusatemi, e ragazzi, io direi che per questo video, siamo giunti al termine, ringrazio Joker per le info, ringrazio voi come sempre per il supporto, fatemi sapere se volete restare aggiornati, su questo discorso anche, ovvero quello delle maestri, della fama, ci becchiamo alla prossima, un salutone, e ciao belli.